ma per quanto non sta andando? che è da? no, adesso non stai vado non so facendo arrivi ma tu non lo so come dovete prendere? allora vedi a che è da? mamma mia roba si intensamente per tanto tempo eh? non ha mai fatto così intensamente per tanto tempo ah eh non lo so non lo so non lo so no 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 io dico al massimo malato il giorno dopo quindi febbre febbre tente si non lo so no si non le so si non le so si non le so si se si Grazie.